Ciao mondo, un saluto da Siviglia, sono ancora qua in Spagna e mi sono messo qua all'aria aperta ora perché fa veramente caldo, però è piacevole, se stai all'ombra ci sono quei 30 gradi che ti tengono compagnia. Io sto qua che mi sto studiando ora, i protocolli che ho visto i giorni scorsi e quindi oggi è un giorno calmo in cui in genere non ci sono pazienti da chiamare, non ci sono telefonate da fare, allora con calma mi posso mettere e vedere insomma tutti quelli che sono i protocolli di utilizzo di questa nuova metodica che è una metodica che devo dire al vero, faccio molti viaggi sempre alla ricerca di quelli che sono i trend futuri poi per implementare i nostri protocolli all'interno del policlinico, stavolta ho trovato veramente qualcosa di grande, qualcosa di grande che mi sta facendo riflettere, io sono da quando ho messo il naso in questa faccenda degli scanner facciali che continua a pensare, pensare, ripensare le implicazioni che avrà questa tecnologia, questa è una tecnologia che riflettendo farà scomparire molte, è una rivoluzione, siamo di fronte a una rivoluzione perché vengono spazzati via tutta una serie di attrezzature che si utilizzavano fino ad oggi per andare a posizionare praticamente questi sono i denti, questi sono i miei denti, ve la faccio semplice, ecco questi sono il calco dei miei denti, voi pensate quando abbiamo un paziente che perde completamente i denti nella odontoiatria classica abbiamo, si utilizza un arco facciale punti di riferimento facciali e si prende come punto di riferimento l'orizzonte, ok la linea dell'orizzonte, mai la linea mediana del viso ma proprio si fa stare in piedi il paziente, si cerca di mettere i denti in piano secondo l'orizzonte, mentre di lato nelle tre dimensioni dello spazio come punto di riferimento si prende in esame il piano di camper, il piano di camper è un piano immaginario che se si prende la spina nasale e il trago, ovvero qua un po' più avanti di dove abbiamo l'orecchia si traccia una linea, quindi il piano clusale deve essere parallelo a questa linea che si chiama il piano di camper, quindi i miei denti dovrebbero essere orientati così, paralleli secondo questa linea e davanti invece devono essere paralleli rispetto all'orizzonte, perché? Perché quasi il 90% della popolazione ha sempre metà viso più lungo dell'altro, in genere quella è la normalità, siamo sempre asimetrici nell'ordine del 4% di asimetria, io per esempio questa è la mia parte del viso più lunga, non so se si vede, io ho questo sopracciglio vedete che è più alto, questo che è più basso, non si può prendere come riferimento la mediana del viso, io ho il naso addirittura storto, quindi se sorrido la mia linea interincisale risulta essere più in qua, ma in realtà è il naso che sta più in qua, più in là. Bisogna quindi allora mettere delle forchette, qua una forchetta sui denti che è simile a questa e quella si trasferisce poi in laboratorio e il laboratorio fa i denti più o meno dritti secondo quegli assi. Questa era la vecchia, è la tecnica insomma che viene utilizzata nel mondo. Ora invece da quando sono uscite le telecamere, gli scanner facciali, che altro non sono che delle telecamere, vedete come questa, la Bellus 3D, che sul mercato si trovano anche su Amazon a 500 euro, hanno due laser, con questi due laser riescono a triangolare quelle che sono le superfici del volto, poi viene riprodotto sul pad, sul software, quello che è il viso in 3D. È un pochino quello che c'è anche nell'iPhone X, l'iPhone X, non so come si chiama, è una telecamera che però ha una metà di risoluzione di questo e serve quella telecamera per il famoso riconoscimento facciale, perché riconosce la tridimensionalità del viso. Queste telecamere non nascono per noi, per i dentisti, per l'odontoiatria, però questo riconoscimento facciale, questa mappatura del viso ha aperto una strada dentro all'odontoiatria, la pianificazione dei lavori dentali incredibile, perché vi spiego, ve lo devo spiegare però con parole semplici, perché non è semplice da così immediato. Mentre noi prima lavoravamo sul paziente senza avere poi in laboratorio il paziente, ora è possibile rilevare il viso del paziente, il paziente se ne va e noi possiamo andare a programmare quelli che sono i denti o provvisori oppure i definitivi senza avere il paziente, perché abbiamo scannerizzato praticamente, abbiamo il modello 3D della faccia. Non serve più andare a usare questi attrezzi per capire più o meno dove stanno le orecchie e come sta l'arcata del paziente, perché semplicemente noi possiamo sul software accoppiare il viso con la posizione dei denti, ok? E poi risalire dalla posizione dei denti alla TAC 3D, quindi abbiamo un file del viso che viene accoppiato e orientato con i file dei denti che vengono accoppiati con i file della TAC 3D. E quindi noi abbiamo al computer tutta la testa del paziente, cioè almeno quello che ci serve. Oltre questo abbiamo la possibilità di prendere come riferimenti radiografici, oltre che radiografici, quelli facciali che in genere sono le parti basse qua delle orbite. Se noi tocchiamo col dito, qua c'è un osso a spigolo, si fa un puntino col pennarello qua e qua, non serve più neanche la TAC, perché noi riportiamo sulla pelle con un track, con un record, con un pennarello, quello che è la posizione dell'osso, questo unito con un pennarello sempre qui, la posizione del trago, noi sullo scanner facciale, sul file che ci dà questa telecamera, possiamo andare sul software che usiamo per orientare i modelli, già far passare un piano virtuale. E con quel piano virtuale puoi andarci a trovare quello che è il piano di camper, perché possiamo anche vedere dove sta la spina del naso. Quindi tutta quella attrezzatura costosa e lunga che si usava prima non serve più. E c'è molto fermento attorno a questa roba qua. Una cosa vi dico che è pionieristica, perché veramente in pochi lo stanno usando, a me addirittura mi ha contattato Sander, un amico, io ho la New York University che vogliono sapere appunto come funziona il sistema. C'è la New York University che contatta me per saperne di più di queste nuove tecniche che vado a scoprire nel mondo. Mi sono sentito, vi dico, un pochino onorato, perché ho detto cavolo, sto veramente facendo ricerca sul terreno, cose che neanche insegnano nelle migliori università del mondo. Io dico sempre che la conoscenza in realtà sta fuori dalle università, devi viaggiare, andare da chi sta facendo la ricerca nel settore, pagare e prendere con mano quelle che sono le novità, poi chiaramente andarle a verificare. Infatti non ho ancora fatto post pubblici sui gruppi dove sono inserito, dove ci sono molti influencer come me nella scena odontoiatrica mondiale, perché voglio prima veramente vedere le potenzialità di questa roba, che non sto dormendo praticamente perché sto pensando e ripensando a tutte le applicazioni che si possono fare con questa roba qui. In più c'è una cosa in più che stiamo sviluppando, che noi siamo un policlinico tra l'altro che ha pazienti che non hanno più i denti. Cioè condizione necessaria per fare questo è che il paziente ha i denti, ok? Questo modellino è di una persona come me che ha i denti, però poi ci sono i pazienti che devono togliere tutti i denti. Non esiste al mondo il protocollo per utilizzare questo sistema con chi non ha i denti. Infatti a fine mese dovrò andare a trovare Miladinov Milos, che è un collega che si trova lui a Timisoara in Romania, che è uno dei pochi al mondo che ha già risolto dei casi con questa tecnologia di riabilitazione completa della bocca. Lui fa prevalentemente faccette, però ha fatto già qualche caso di pazienti che non hanno i denti e quindi lo andrò a trovare a Timisoara con i ragazzi che si occuperanno poi ogni giorno di usare questa tecnologia per far quadrare il cerchio col protocollo che ho visto qua in Spagna e che domani devo continuare a vedere. Ed è un protocollo nuovo che tra l'altro neanche c'è qua nei loro protocolli, ma sta praticamente sulla testa di questa persona, di Dani, che è l'inventore di questa tecnica. Ieri abbiamo passato praticamente la sera a parlare del protocollo e a costruire questo protocollo digitale, che è quello con cui hanno applicato lì a Timisoara in Romania per la prima volta. Manco la New York University c'è questo protocollo, glielo devo portare io a dicembre. Quindi faremo i vari passaggi, le varie foto, i vari clip video per applicare praticamente questo sistema su chi non ha i denti. Qua in anteprima mondiale, ora vi spiego quello che è il protocollo che è. Il paziente arriva, si fa innanzitutto le foto, si fa la scansione dei denti residui oppure della mucosa, si mettono, si fanno le TAC 3D, dopodiché faremo delle placche in resina con della cera che danno intanto sostegno al labbro, perché delle volte quando il paziente non ha i denti il labbro rientra verso dentro. Danno sostegno, poi danno altezza alla bocca, andiamo a proporzionare questo terzo con questo e con questo e lì otteniamo i parametri standard della altezza della bocca, chiaramente poi va validata durante il periodo dei provvisori, se i provvisori si rompono allora lì dobbiamo pensare che probabilmente va rialzata o abbassata la dimensione verticale del terzo inferiore del volto. Però già con queste cere noi possiamo inserire quella che è la forchetta, questa forchetta che viene inserita che ci aiuta a orientare la base su cui poggiano queste cere del paziente. Si può addirittura fare anche dopo, poi si mettono gli impianti in bocca, anche prima dei provvisori questo protocollo qua. Quello poi viene scansionato, viene scansionato un modello applicato questo sopra, un modello della bocca senza i denti oppure con gli impianti inseriti, col software li andiamo ad accoppiare, li andiamo ad orientare nello spazio, nelle tre dimensioni, l'arcata senza i denti del paziente. Dopodiché su di quella andiamo a caricare un file, una libreria dei denti che possiamo addirittura andare a scegliere le varie forme dei denti da caricare e a quel punto possiamo andare a stampare una prova con la stampante 3D che abbiamo, la Formlabs, quella arancione che alcuni di voi avrebbero visto in laboratorio. In un paio d'ore abbiamo praticamente i denti provvisori che possiamo già montare in bocca e verificare l'orientamento, se ci siamo andati giusto oppure anche fare delle limature, possiamo scansionare e modificare di nuovo invece poi i provvisori in PMMA che andiamo a stampare successivamente. Il paziente sta con questi denti in bocca un tot di mesi, i tessuti guariscono e poi torna, quando torna se tutto è andato bene andiamo a copiare quei provvisori, a copiare proprio il file con materiali invece definitivi. E lì ho visto una nuova tecnica che ha veramente senso, che mi ha fatto vedere da anni, è una tecnica con cui loro fanno i denti definitivi ed è la tecnica che noi usiamo invece per i provvisori, però loro accoppiano di materiali diversi. E lui dice che non hanno mai avuto problemi, che anzi hanno risolto un sacco di problemi ma non la conosce nessuno nel bugia, ci sono alcuni che la stanno facendo, questa tecnica è un po' diversa e lui ce la verrà a insegnare a gennaio in clinica per vedere di aprirci la mente anche verso altre tipologie. Quindi ho veramente preso due piccioni con una fava, come si dice qua in Spagna, anzi tre. Intanto stiamo creando un nuovo protocollo, secondo torno e butterò se tutto va bene via un sacco di attrezzature e ci renderà il processo molto più rapido. Terzo, possiamo fare ricerca e quindi iniziare a tracciare i casi da pubblicare poi con la New York University quando valideremo il protocollo. Quarto, sono proprio curioso di vedere questa nuova tecnica per fare i definitivi con una barra interna metallica, lo zirconio fuori, però di questo voglio prima parlare con diversi tecnici che ho amici nelle varie parti del mondo per capire quali sono i loro feedback se hanno mai provato questa tecnica e vedere un attimo quali sono i livelli di resistenza che può avere. Io ho i miei appuntini qua, mi sto rileggendo tutti i vari appuntini e sto vedendo passo passo quello che è il protocollo. Prima lo voglio fare mio, capire, poi lo dovrò approfondire a livello pratico quando arrivo in clinica, monto tutto, mi devo cercare il mio spazietto dove mettermi con lo scanner facciale, lo insegnerò a Valeria, Anna, Dani e saranno i ragazzi che ogni giorno si occupano di scansionare i visi e andiamo in parallelo. Iniziamo a fare qualche caso con questa tecnica quindi a vedere quanto è facile caricare poi su Exocad, che è il software che viene utilizzato questi visi, orientarli nello spazio appunto con questi punti di repere. Sulla testa del paziente viene montata questa apparecchiatura che serve a orientare invece il viso nello spazio. Se si fa un puntino qua invece vi faccio vedere, vi prendo dalla scatola quella che è l'apparecchiatura, anzi ve la farò vedere direttamente quando sono in clinica perché sennò vi chiacchiero e basta, vi faccio proprio vedere come si fa quando sarò in clinica. Ci sono alcuni accorgimenti da tenere a mente, quando si scansiona il viso per esempio non bisogna piegarsi in avanti, il paziente non deve essere curvo perché se l'asse di rotazione del piedistallo non sta in asse col viso c'è il rischio poi che fa una deformazione lo scanner. Bisogna fare poi un puntino qua di modo da orientare il viso rispetto all'asse dell'orizzonte ortogonale e il paziente deve stare dritto, quindi non deve stare curvo, poi ci serve andare a quando il paziente sorrida perché fa diverse scansioni, non deve andare a alzare questa parte qua perché sennò va a spostare il punto di riferimento che viene applicato qua sul viso, sulla fronte, quindi deve sorridere mantenendo questa zona ferma. Poi la luce molto importante deve essere fatta con un tipo di luce che non posso dire qua perché chiaramente ho firmato anche delle carte e in fase sperimentale questo protocollo certe cose non possono essere divulgate e poi insomma tanti tanti accorgimenti che loro dopo tre anni sono riusciti a codificare perché esiste già da tempo questa telecamera sul mercato ma non esiste il protocollo per applicare questa telecamera nel settore della ricostruttiva della bocca. Quello che cambia cos'è? Praticamente che si va a sostituire alcune attrezzature con delle attrezzature digitali quindi si ha un flusso di lavoro che è completamente digitale mentre prima rimaneva in parte l'analogico. In più abbiamo il fatto che possiamo andare a ridurre i tempi di lavorazione ma soprattutto avere il viso del paziente quando il paziente non c'è, che se ne è smammato via, che se ne è tornato in Italia. E questa è una grande agevolazione specialmente per noi. Quanto ha senso applicare questo tutti i giorni? Vi posso dire il mio punto di vista? Poco, perché se uno deve fare tre denti, le sei faccete, fare questo protocollo qua è costoso e non so quanto gli studi dentistici in Milano, Roma, Parigi ci rientrano dei costi per fare questi piccoli lavori. Mentre ha veramente tanto, tanto senso quando non abbiamo più riferimenti nei pazienti completamente denturi che hanno perso tutti i denti. Di questo Dan se ne è accorto, infatti stavamo riflettendo su questo e loro sono impressionati dai pazienti che noi abbiamo in clinica perché è un centro nostro ottimo dove fare la strutturazione di questo protocollo. In più il nostro policlinico li aiuterà a settare il protocollo ma anche a entrare nel mercato russo perché tutti i nostri tecnici parlano madrelingua russa e vorrebbero anzi di strutturare proprio lì a Chisina o da noi il dipartimento poi per entrare nel mercato russo. Io vi voglio salutare tutti, a tutto il gruppo, sono lontano da voi però sto facendo delle cose grandi come sempre faccio in giro per il mondo a intercettare quelle che sono le novità e a intercettare protocolli che manco vengono insegnati dentro all'università e che le università ci chiedono di portare dentro, a dire il vero o no, li stanno insegnando alle università qua di Madrid questo protocollo e anche in Canada mi pare che mi abbia detto che la stanno già sperimentando questo protocollo. In sei mesi è esplosa letteralmente questa AFT, è un'azienda dove conviene sicuramente investire che avrà un grande futuro questa AFT, io penso che tra qualche anno se l'acquisirà pure qualche colosso perché ha veramente scoperto un vaso di Pandora. È una cosa così banale, hanno semplicemente preso le cose che già esistono da tempo e li hanno connesse insieme. Li hanno connesse insieme e hanno fatto un flusso che è possibile replicare, validato e che cambia un pochino le cose in odontoiatria. E un po' siamo di fronte a come quando hanno inventato gli articolatori o inventato i rilevatori apicali nelle devitalizzazioni, è cambiato poi completamente il mercato. Io spero che stiate tutti bene, vicini e lontani, in Italia, chi sta in Moldavia vi saluto tutti, io penso di essere lì il 10 di nuovo in Moldavia con tutto il mio pacchetto che devo spacchettare perché se no alla dogana mi chiedono, me lo bloccano, quindi devo prendermi un'altra valigia, metterò lì tra i vestiti le varie cose, è importante che siano pacchi aperti quelli che entrano in Moldavia, così puoi dire che non stai importando roba da rivendere ma che roba che usi per te, anche se sarà difficile da spiegare questa roba qua, questa roba che metti sulla fronte. Siviglia vi voglio lasciare con ricordi di viaggio, io la notte sapete che non dormo e quindi mi vado con le scarpe da joking a girare la città, ho fatto veramente delle belle foto stanotte, sono stato nel centro, a un centro storico veramente pazzesco, Siviglia, ma sconvolto come città, io non pensavo veramente fosse così bella. Una delle più belle città che ho visto in vita mia. Ho visto anche altre città qui come Madrid, Barcellona, sì sono belle ma il centro storico di Siviglia, a parte che è enorme, poi ho incontrato persone che non vedevo da anni qua a Siviglia, prima di venire in Siviglia, un viaggio dove sto incontrando un sacco di gente. Il centro storico veramente vivo, ci sono delle stradine strette, a parte che somiglia molto a Cagliari, la città dove sono cresciuto. E poi c'ha tutti questi baretti, tutta la gente che siede per strada, veramente un'atmosfera unica. Vi consiglio, io ci vorrei venire in futuro qua, fare due settimane tutta la costa spagnola, magari quando avrò il viaggio per Lisbona, partire da Barcellona, arrivare poi a Lisbona. Così passo di nuovo a trovare alcune persone che conosco lì a Barcellona, di nuovo qua per Siviglia e poi Lisbona alla clinica Malone. Io vi faccio un saluto e un abbraccio veramente a tutti, scusate se non sono tanto presente questi giorni ma è per una buona causa. A presto.